di organizzazioni industriali, di imprese, le imprese sono delle organizzazioni autonome che hanno dentro un continuo di discutere per cercare di creare un piccolo governo dentro a un imprese. La politica è un governo sfinizzato fino al punto che due persone che vogliono vivere insieme, sia stessa della barba, della famiglia, della foca, non c'è più tipo di foca, queste due persone si devono accordare e fare un piccolo governo, devono fare un piccolo governo. Tanto che se non stanno alle regole federali, non le vuole essere di più, invece che vogliono fare un piccolo governo, che vogliono essere di più, invece, che vogliono fare un piccolo governo, che vogliono fare un piccolo governo, che vogliono essere di più